ciao a tutti e bentornati le vostre domande e le mie risposte partiamo subito con questo bel sole che finalmente è tornato ieri non era bellissimo il tempo oggi è migliorato le previsioni comunque state in vacanze sono buone fino a ferragosto quindi tutto a posto partiamo con la prima domanda che mi fa fabio defazio mi chiede un buon power bank quindi una batteria esterna per un s5 ti dico una batteria esterna per tutti gli smartphone vai tranquillo vai online vai su amazon comunque sulle catene dell'elettronica non fisiche perché li costano molto di più prendila sicuramente online trovi romos trovi tantissime marche da 10.000 mAh a 20.000 mAh se dai 15 ai 30 euro quindi sia il prezzo che la qualità che la durata delle batterie elevata io ho una romos che ha circa oramai quasi un anno e mezzo o due ha fatto tanti cicli di ricarica ancora tiene sono ottimi dispositivi di consiglio comunque romos da 10.000 mAh in su con un prezzo dai 15 ai 30 euro 30 euro intendo le 20.000 ovviamente le 10.000 le trovi tranquillamente su amazon a 15 euro quindi sicuramente una romos o comunque batterie affini ma online acquista online poi c'è fabio brisi che mi chiede una tastiera siccome ti avevo risposto di una tastiera fisica tu non vuoi una tastiera fisica tu vuoi una tastiera android che abbia i tasti piccoli tipo la swift key allora io ti posso consigliare touchpole id che è una tastiera android che trovi sul market che è personalizzabile ha una funzione per rimpicciolire un po' i tasti mi pare che sia proprio touchpole provala ma ci sono anche altre tastiere affine se cerchi sul market che hanno la funzione l'impostazione per poter rimpicciolire i tasti quindi davvero una possibilità di avere i tasti più piccoli che tu hai le dita grandi mi dici quindi non riesci a digitare bene sulla tastiera prova la touchpole intanto dimmi se c'è questa funzione sennò poi ti aiuto magari io cercandone altre magari nelle migliori applicazioni te ne metto dentro una vediamo comunque so che esistono tastiere che hanno la funzione di rimpicciolimento dei tasti come per te però prova touchpole dimmi se trovi questa funzionalità all'interno andrew mi chiede un consiglio su un tablet da spendere poco beh dipende cosa intendi per spendere poco allora se vuoi spendere poco nella fascia entro i 200 euro ti prendi un ipad mini wifi quello retina non parlo quello il 32 va benissimo anche quello senza lo sblocco di impronti digitali hai un tablet che alla fine del mondo io s velocissimo ancora nei tablet sicuramente apple la fa comunque da padrone se no entro con la cifra ci sono dei bei tablet samsung che funzionano bene tab 4 tab 3 insomma che hanno dei buoni schermi però come avere un retina come display se oltre sicuramente la fascia dei 200 euro di android secondo me quindi ti consiglio quello un fascia medio medio basso un entry level fascia media di e samsung che sta intorno a quelle cifre si trovano già dei buoni affare anche con schermo in full hd senza problemi anche altre marche anche lenovo anche asus hanno comunque dei buonissimi tablet anche lte su quelle cifre dentro i 200 euro quindi vai tranquillo poi se vuoi qualcosa di più specifico scrivimi anche via mail che te lo dico con mi chiede note 7 si o no beh avete visto il video note 7 sicuramente sono volete tutto lo puoi permettere di comprare di conseguenza ti dico assolutamente di sì dai la domanda una domanda ovviamente alla quale ti rispondo velocenti si acquista sicuramente a occhi chiuse il fablet definitivo non c'è comunque sul mercato un fablet migliore del note 7 è assolutamente all'avanguardia ma ho visto che innovazione ha io mi aspetto un gran dispositivo sono stato molto impressionato dalle prime review dalle prime caratteristiche dalle prime immagini appena si può lo recenseremo lo avremo insomma lo proveremo ma sicuramente fai un acquisto azzeccato al 99 per cento dai un 1 per cento lo lasciamo sempre spinone mi chiede complimenti per la rubrica grazie una cassa bluetooth esterna qua abbiamo l'imbarazzo della scelta dipende quanto vuoi spendere piccolina ce ne sono migliaia di tipi dai 10 ai 15 euro un po più grandi tipo la gem che ho io che ho fatto anche una recensione con un ottimo prodotto già ma una grandissima marca ha un audio pulito forte 50 euro ti porti a casa una cassa che ha 20 watt di uscita e funziona alla grande per dire neanche 50 la trovi anche 39 40 euro sul web 50 nei negozi fisici dipende sempre cosa vuoi cosa vuoi acquistare te se parliamo di fasce piccole cioè di piccole casse per sentire lo smartphone così al volo 8 10 euro della trust della sony ti cieli tutto il più lg ma poi ci sono tante marche medie che fanno casse piccole che costano poco se invece vuoi qualcosa di più diciamo un livello top andiamo proprio su bose sony eccetera livello medio medio alto e già mi lo ammetterei è una marca da tenere assolutamente in considerazione perché fa prodotti comunque di altissima qualità un prezzo molto più competitivo quindi insomma tra i 35 e 50 euro ti porti a casa una cassa esterna che la fine del mondo vai tranquillo senza nessun problema ti consiglio comunque una gem quella battle la bottiglia per la forma di bottiglia che avevo preso io che la trovi veramente anche un lesso di 50 euro a parte impermeabile poi ci puoi fare la doccia indistruttibile ho fatto la recensione vai a vederla quella lì sicuramente può essere un acquisto azzeccato poi c'è alberto che mi chiede o tra le mani un affare o un full hd però sono tentato di cioè parli di un televisore ovviamente full hd sei tentato di passare al 4k e mi chiedi se è il momento assolutamente se hai l'affare assolutamente il momento di passare al 4k ormai ci sono i masterizzati scusate i lettori blu ray 4k i film in 4k stanno uscendo il lettore ormai è sceso sotto i 300 euro le olimpiadi verranno trasmette in parte dalla rai 4k se incominciano a vedere delle trasmissioni in diretta in 4k in streaming su youtube si trova un sacco di materiale in 4k video camera degli smartphone in 4k quindi assolutamente sei assolutamente è assolutamente il momento di farlo soprattutto se hai l'affare a occhi chiusi puoi passare tranquillamente dal tuo full hd vendilo e passa questo capo 4k che non mi dici che televisore non mi specifici scusa non mi specifichi marche se mi specifichi magari qualcosa di più sulla marca sul modello ti do anche un consiglio su quale televisore magari fa per te comunque se c'è il passaggio da fare vai tranquillo ultima carmine mi chiede un consiglio per uno smartphone tra huawei lg o sony scelte tre tre veramente insomma non da poco no e beh insomma è dura no voglio dire vabbè sony è il marco per eccellenza per me come qualità costruttiva materiali affidabilità eccetera eccetera bellissimi schermi insomma stravedo per sony però lg rapporto qualità prezzo non si discute io amo questa azienda huawei l'azienda sulla quale ho scommesso che sarebbe diventata grande e lo è già quindi dipende il modello tu scrivi di tre modelli che vorresti ti dico quale dei tre così a occhio e ti direi sony un pochino più in su huawei lg te la giochi forse huawei e poi lg ecco se devo metterli in fila sony huawei lg poi dipende il modello di telefono che vuoi prendere te questo è il mio consiglio in base ai brand se come tu non specificavi poi un modello diciamo in particolare per questo rubrica delle facche era tutto alle prossime da 4k tech paolo gualla per 4k tech grazie alle prossime ciao ciao ciao